Sì, ma ovviamente quando si vince c'è sempre felicità. La vittoria di oggi poi dà anche importanza al pareggio di Ponsacco alla fine. Quindi dà seguito ai risultati positivi che stiamo facendo. E poi comunque al di là di tutto è una vittoria strameritata, voglio dire, perché comunque anche il primo tempo dove non abbiamo fatto benissimo abbiamo avuto insomma un bel po' di occasioni per poter pareggiare. Quindi al di là di tutto sofferenze, cattivo primo tempo, incazzatura mia di metà tempo abbastanza pesante e alla fine usciamo con una vittoria che ci deve dare però consapevolezza della difficoltà che andiamo a incontrare perché non ci possiamo permettere certo di approcciare male le partite o di reagire male. Perché il primo tempo secondo me non abbiamo approcciato male ma abbiamo reagito male, siamo diventati frenetici e ci siamo messi in difficoltà da soli. Poi invece nel secondo tempo c'è stato più ordine e aver ribaltato il risultato è frutto anche di questo. Sì, ma questo è un aspetto che era già venuto fuori in altre partite ma veniamo da una settimana difficile. Cappanella è stato tutta la settimana a letto con la febbre, Andolfi è stato malato, Bruzzo, Malva hanno avuto problemi, Biagioni era infortunato, Zini era squalificato e altri piccoli fastidi. Ci siamo allenati non bene questa settimana, bisogna essere sinceri, non bene nel senso dal punto di vista numerico e quindi c'è la necessità di attingere a tutta la rosa e questo conferma quello che ho sempre detto ai ragazzi, che è la squadra che fa la differenza. Perché poi nei momenti di bisogno, nei momenti che c'è delle assenze anche importanti, c'è bisogno che chi entra debba fare la differenza e devo dire che è stato così. ha esordito anche Bartelloni nel 2006 che ha fatto benissimo perché si sta allenando bene con noi dall'inizio e questa è la dimostrazione che il percorso che stiamo facendo è importante però non dobbiamo fermarci a una vittoria, a un risultato, ma bisogna continuare a crescere. Lì ci sono almeno due errori fondamentali, uno è questo che l'abbiamo lasciato al destro e quindi lui è entrato dentro il campo apposta proprio per cambiare gioco e quindi la postura del corpo deve essere a chiusura del piede destro e poi non abbiamo assorbito l'inserimento che era insomma abbastanza leggibile l'intenzione di passaggio quindi sono stati bravi loro, bisogna dire la verità perché hanno fatto un gol a livello tecnico molto bello noi siamo stati un po' dei polli e devo dire la verità questo gol inaspettato perché è stato il primo tiro a porta che hanno fatto e forse anche l'unico del primo tempo ci ha un po' messo in agitazione eccessiva perché abbiamo perso un po' di distanze abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico, abbiamo forzato troppe giocate e quindi poi la qualità del gioco ne risente però bene che abbiamo reagito e che abbiamo preso questa vittoria che è importante grazie grazie mister grazie